Buongiorno a tutti, buon venerdì 31 maggio, pronti a scollinare a giugno e soprattutto verso il 4, quando a Palazzo Parigi ci sarà l'assemblea dei soci e l'elezione del ventitresimo presidente nella storia dell'Inter che succederà quindi a Steven Zhang dopo la sua gloriosa presidenza che ha portato l'Inter a conquistare 7 trofei, 2 scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe, 2 finali europee purtroppo perse ma che avrebbero meritato entrambe un altro risultato e vedremo se sarà un dirigente di OCTRI, magari l'avvocato Ralf, la prima presidentessa donna nella storia dell'Inter, o il manager spagnolo Cano o il notaio milanese di fede interista e consigliere d'amministrazione in quota OCTRI, Carlo Marchetti dal 2021 vicino alle cose di Casa Nerazzurra che ci aveva anche espresso la sua versione quando negli scantinati dicevano che fosse controllato da Glass Trust quando avete visto che è tutt'altro e dunque aspettiamo e vediamo, c'è anche la possibilità di uno Zanetti OCTRI avrebbe anche voluto un Marotta che però, come ha dichiarato, si considera dirigente e preferisce fare quello e non una carica così importante avendo altre mansioni e obiettivi col te caldo più famoso di YouTube in arrivo, qualcuno mi ha scritto che è annoiato dal discorso sulla petizione Allora, chiariamo intanto Primo, questo è il mio canale, casa mia, la mia cucina e si parla di quello che secondo me è importante e quindi a maggior ragione, essendo stato vittima di tanti haters che hanno messo anche a dura prova la mia vita e la mia famiglia se la considero una cosa importante, ne tratto anche più dell'Inter poi, se vi annoia, potete schippare ma sicuramente dovete aver rispetto di quelle che sono le mie priorità le mie preoccupazioni, che possono essere anche quelle di tanti perché il fenomeno dell'odio sui social non nasce certo adesso e purtroppo tanti ne hanno avuto a che fare e bisogna salvaguardare soprattutto i più giovani che possono finire nella rete del cyberbullismo quindi se vi annoia, schippate ma date prova anche di ignoranza mentre firmare la petizione ai 70 anni che non l'avete ancora fatta perché siamo solo a 2200 firme siamo ogni mattina più di 10.000 se non 12 e siamo quasi ad arrivare ai 48.000 follower firmate la petizione per stoppare l'odio sui social per mettere un obbligo di registrazione con un documento che possa solo in caso di reati permettere alle autorità di risalire a questi leoni da tastiera che spesso la fanno franca perché si nascondono dietro dei nickname e le piattaforme straniere oppongono una resistenza importante e non concedono neanche alle autorità, la polizia postale la possibilità di avere l'identità di questi personaggi squallidi che soprattutto sui social ma anche qua su youtube proliferano quindi click non costa nulla un gesto di civiltà per anche sensibilizzare le istituzioni a un intervento a una normativa per crescere da questo punto di vista e stoppare, se vi annoia mi dispiace per voi ma secondo me è un qualcosa di veramente importante che bisogna portare avanti e bisogna utilizzare i social per anche delle finalità come questa non solo per parlare inter poi c'è tutta una bella mezz'ora dedicata all'argomento però non vengo, non mi faccio dire da nessuno quello che devo dire in casa mia chiariamolo subito molto bene allora dicevamo in attesa dell'assemblea dei soci ieri è stata una giornata campale nel senso che abbiamo anticipato tutti dicendo che ci sarebbe stato ieri il primo incontro con Camagno, Ausilio e Baccin per il rinnovo di Lautaro un incontro che è andato in scena lontano dai riflettori proprio per mantenere il massimo riservo però poi si è scoperto che è andato in scena e che rimane una differenza sostanziale anche se le due campane riportano versioni differenti tutti i giornali scrivono poi ne leggeremo qualcuno di un Inter disposta a arrivare a 8 milioni e mezzo 10 con i bonus magari facilmente raggiungibile offerta massima a cui può arrivare l'Inter con la richiesta di Lautaro che sarebbe aumentata dopo anche il titolo di MVP e questa stagione vedendo altri ingaggi come quello di Blauic che sarà da 12 come quello di Ozyman che è di 12 in attesa però dei saluti e vedremo se sarà Chelsea o Paris Saint-Germain capire se era anche un modo per tastare la forza economica della nuova società da parte del manager spagnolo che gestisce anche Hakimi e che sta provando come il suo lavoro un gioco a rialzo per portare il massimo al suo assistito capire se anche Lautaro farà un passo importante verso l'Inter magari rinunciando a qualcosa proprio in virtù del rapporto particolare che c'è richiedendo anche giustamente un aumento che non ha mai chiesto in questi anni l'ultimo rinnovo del 2021 quindi non è mai andato a batter cassa nonostante delle stagioni sempre migliori che hanno visto l'anno scorso 28 gol quest'anno 27 anche finora ha mostrato una estrema cura nei confronti dell'Inter quindi come vi dico sempre passo indietro calma per qualsiasi tipo di giudizio in tanti si sono scatenati addirittura che vogliono l'accessione di Lautaro state attenti a tutti quelli che non vogliono altro che indebolire l'Inter campione d'Italia e cercare di mettere dei problemi di ingigantirli Marotta si è sempre espresso in termini ancora l'altro giorno di grande ottimismo di volontà da parte di entrambe le parti di arrivare a una conclusione positiva e dunque aspettiamo anche un altro incontro dopo quello di ieri Camagno ha riferito a Lautaro e presto ci sarà un'altra un'altra puntata con l'obiettivo di arrivare prima diciamo dell'inizio della nuova stagione che è fissato il 10 di luglio a un accordo per evitare qualsiasi tipo di problema Scrimi Arbis o che si cominci l'anno con un contratto che poi andrà sempre di più vicino alla scadenza anche se ricordiamo che è nel 2026 e quindi capire un po' meglio il tutto senza dare giudizi affrettati aspettando che le varie dinamiche come ha detto anche Marotta normali quando un giocatore così importante arriva a una scadenza che non è così vicina però dopo delle stagioni così pesanti ci sta anche è giusto che venga chiesto un aumento poi non parliamo di uno che ogni anno come chi l'ha preceduto per esempio andava sempre a chiedere un rinnovo un aumento e a battere cassa questa è la prima volta l'auspicio che si trovi una via di mezzo un accordo una giusta via di mezzo per il bene dell'Inter da parte di tutti poi come mi avete scritto in tanti se dovesse invece la cosa non realizzarsi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle sia in tempi recentissimi che nel passato da gli addi di Ronaldo Ibra Lukaku ancora prima Icardi non credo che con un centinaio di milioni Marotta ausilio non sappiano cosa farci avranno già anche in mente un piano B e per mantenere come è sempre stato come hanno fatto l'estate scorsa quando si parlava dei downgrade da Onana a Pavar a Bissec a al centrocampo con gli addi di Brozovic e poi l'attacco con Lukaku e Dzeko avete visto poi con i vari Sommer Pavar Bissec un Cialanoglu cresciuto in maniera devastante un Mkhitaryan Evergreen un Barella di grandissima qualità un frattesi miglior dodicesimo uomo della Lega decisivo nelle partite più importanti allo scadere e poi quel Turam che dal ritiro della Francia addirittura vorrebbe arrivare a 20 gol e 20 assist per essere ancora più decisivo nella sua seconda stagione per quello che è stato un vero e proprio colpo di mercato quindi non diamo giudizi affrettati aspettiamo che questa trattativa prosegua nella speranza che si trovi la soluzione migliore però senza nessun tipo di ansia il contratto è lungo senza nessun tipo di preoccupazione anche se non si arrivasse a un accordo la fiducia è in quella coppia anzi quel trio con Bacin il Marotte ausilio che sapranno sicuramente come muoversi al meglio in qualsiasi tipo di evenienza veniamo invece ai numeri perché ieri sono stati pubblicati anche i risultati della semestrale e dunque c'è un Inter che continua il suo processo il suo programma di risanamento è al è arrivata ad incassare al 31 marzo 232 milioni in crescita di 54 rispetto al 2023 quindi con un sensibile aumento che è destinato a migliorare ancora questa questa cifra nel senso che la nuova Champions garantirà un fisso minimo di 50 55 milioni un 30% in più anche perché ci saranno da giocare due partite in più poi un premio partita di 2 milioni per le vittorie e con il mondiale per club e con il nuovo sponsor che arriverà dal primo di luglio che porterà anche qui un ulteriore aumento capite anche il motivo per cui Oktri ha fiutato l'affare e si è convinta a prendersi l'Inter e a tenerlo per un per un periodo di lungo periodo addirittura secondo Bloomberg l'Inter con Paris Saint Germain e Tottenham ha avuto una crescita impetuosa da 2016 quando è stata presa da Suning del 200% in termini di valore ieri abbiamo dato i dati di Football Benchmark che la valuta un miliardo e quattro quindi addirittura una valutazione superiore a quanto chiedeva Steven Zhang un miliardo e tre destinata ancora di più a salire con i conti che migliorano e con lo stadio che adesso bisogna capire senza nessun tipo di preclusione da parte della proprietà americana se sarà se sarà ristrutturazione di San Siro con quel diritto di superficie che sarebbe come una proprietà uno stadio di proprietà oppure Rozzano è il progetto su quell'area che dovrebbe allargarsi perché non è più solo destinata l'esclusiva all'area stadio ma anche a tutta quella circostante quindi con un progetto anche un indotto ancora maggiore e Octree ha sempre fatto diciamo degli affari immobiliari una delle sue prerogative anche qua aspettiamo lo facciamo da tanto tempo ancora non si è sbloccata questa situazione stadio che è determinante per ridurre il gap con la Premier League e i top club europei però anche qua attendiamo soprattutto i studi di WeBuild e capire come e se si potrà proseguire con la ristrutturazione di San Siro che non si può abbattere con vincolo strutturale come è stato poi confermato anche dal Tar Allora leggiamo appunto la situazione dedicata a questa progressiva diciamo situazione finanziaria che continua a migliorare e che conferma quanto di buono si sta facendo a dieci giorni dall'insediamento di Octree e a meno di una settimana all'assemblea dei soci la società in cui confluiscono i ricavi media e sponsor del club ha diffuso i risultati della trimestrale chiuso al 31 di marzo nei primi nove mesi dell'esercizio la società di via della liberazione ha accumulato ricavi come dicevamo per 232 milioni di euro in aumento del 30,3% rispetto ai 178 del 31 marzo 2023 una crescita spinta in particolare dai ricavi da sponsor in aumento di 20,9 milioni ricavi da diritti tv della serie A in aumento di 20 milioni ricavi da diritti tv UEFA in aumento di 13,6 milioni il lavoro dell'area commerciale inoltre ha già garantito per la stagione 24,25 quella in cui dovrebbe essere raggiunto il pareggio di bilancio ricavi da sponsorizzazioni per 78 milioni rispettate questo è importantissimo le condizioni del settlement agreement con l'UEFA per l'esercizio 22,23 l'Inter si aspetta di fare altrettanto anche per il 23,24 e quindi non ci dovrebbe essere nessuna trattenuta come invece l'anno scorso sui premi UEFA quindi un ulteriore miglioramento per l'assemblea della prossima settimana per il nuovo presidente non si esclude uno tra Ralf e Cano come vi dicevo in apertura i rappresentanti di OCTRI che stanno continuando con le loro riunioni con tutte le aree del club per cercare anche qui di dare le linee guida per la nuova Inter all'americana ma rimane sul tavolo anche la candidatura di Marchetti allora mentre cercheremo di approfondire poi la questione cifre di Lautaro tra richieste offerte che non ci risultano così come vengono descritte da qualcuno addirittura per arrivare a 16 milioni la brutta notizia tegola direi non indifferente è quella che Francesco Acerbi nonostante ci abbia provato in tutti i modi nonostante a un certo punto dopo il gol proprio segnato da lui Scudetto contro il Milan nel derby importantissimo quando aveva alzato bandiera bianca proprio per curare la pubalgia che gli ha creato tanti problemi durante la stagione era rientrato nelle ultime due ma non l'avevamo visto benissimo soprattutto a Verone infatti è tornato quel fastidio che lo porterà a non partecipare all'europeo una brutta notizia operarsi lunedì per risolvere questo fastidio che lo tormenta un'operazione quindi per togliere questa infiammazione sperando appunto che il recupero sia veloce di solito di circa un mese e che possa essere pronto per la nuova stagione comunque un intervento che abbastanza è una zona delicata un recupero che poi bisogna fare in un certo modo e che a 36 anni comunque qualche diciamo dubbio sulla ricerca di un sostituto viene ditemi anche voi cosa ne pensate ma mi pare che tutto quello che si era detto ha un senso adesso ancora di più perché con De Vrij 32 anni a Cerbi 36 e questo problema un rinforzo per la difesa mi sembra necessario tutto sport riporta i nomi di buongiorno però abbiamo detto valutazione altissima e già l'Inter deve pensare a fare cassa e un affare oneroso come quello di Bento sui 20 milioni c'è sempre la trattativa Gudmundson con una richiesta di 35 bisogna provare a piazzare gli esuberi Correa forse Arnautovic se arrivano delle offerte tutti i giovani che hanno fatto bene il Cagliari ha manifestato l'intenzione di riscattare Oristanio lo standard Liegi Vanhoitzen su Satriano ci sono diversi club stranieri Valencia e Stoccarda su Filip Stankovic diversi club anche di serie A e poi c'è la questione Valentino Carboni che io aspetterai di vedere intanto se verrà confermato nel gruppo della Coppa America che già quella potrebbe far schizzare la sua valutazione e poi vedere se arriveranno delle offerte da 30 e passa milioni si diceva un PSG molto interessato al giovane argentino io non me lo farei scappare anche se qualcuno di voi è già pronto a svenderlo però io cercherei sempre di mantenere un controllo su questi giovani così futuribili che però di fronte anche a un'offerta da 30 milioni non credo che si possa mettere una recompra o qualche cosa vediamo magari facendo un'operazione alla Zierkze detto di buongiorno Scurs però anche lui arriva da un anno di inattività praticamente dall'operazione al ginocchio sarebbe un po' un rischio puntare su un giocatore che deve ancora recuperare i nomi sono quelli fatti nelle ultime settimane quello di Bijol dell'Udinese anche se non mi convince completamente dei due difensori del Salisburgo abbiamo visto all'opera Sole che è anche molto interessante 24 anni un metro e 92 ha una valutazione anche raggiungibile perché in scadenza nel 2025 di solo 10 milioni solo tra virgolette un difensore centrale con passaporto francese della Repubblica Centrafricana fisicamente molto molto forte può essere una soluzione interessante anche si è parlato di Pavlovich l'altro centrale Salisburgo anche lui molto forte serbo fisicamente non è in scadenza e ha una valutazione un po' più importante perché è di 25 milioni sono diciamo dei giocatori che rientrano nell'interesse sui tacquini di ausilio e bacin c'è ancora Hermoso che non ha fatto la sua scelta che sembra vicino al Napoli però in Spagna continuano a dire che giocherà in serie A dopo che aveva quasi chiuso con il West Ham e con altre voci dall'Arabia Saudita lì il problema è la richiesta molto alta di ingaggio superiore ai 5 milioni è in scadenza anzi ormai sta per scadere scaduto ha rifiutato il rinnovo vediamo anche qui anche attenzione alla situazione l'evoluzione del problema di Gudmundson il suo avvocato assicurato che verrà risolto però c'è anche sempre quel rischio tanto che il Genoa potrebbe pensare scrivono dalla Liguria a una cessione del suo portiere Martinez piuttosto che Gudmundson per quella problematica però anche qui mettere il carro davanti ai buoi leggiamo un po' di vostri messaggi leggiamo un po' i vostri commenti e ne attendo di altri mi raccomando iscrivetevi al canale che dobbiamo vincere la scommessa con poi vi dirò chi è che è sicuro che non arriveremo ai 50k aiutatemi a batterlo e poi il gruppo Telegram mi raccomando che con tutte le notizie in arrivo dovete scaricare Telegram e poi cercare il gruppo Marco Barzaghi Inter Telegram gratuito come Whatsapp servizio di messaggi mandatelo solo il vostro telefono lo scaricate e poi vi iscrivete al gruppo anche qui tutto assolutamente gratuito Ikki Rock 50 like che non sono pochi ho quasi 50 anni e ho vissuto gli addidi Rummenigge Klisman Ronaldo Vieri Adriano Milito non sarà un problema un eventuale addio di Lautaro l'Inter resta fai un minestrone di grandi e un po' meno però hai ragione assolutamente che l'unica cosa che resta è assolutamente l'Inter Enzo Barbetta se tornasse Moratti sarei penso saremmo infinitamente grati al nostro presidente perché ha fatto sempre il bene dell'Inter tanti di voi diffidenti però non si era mai espresso come ha fatto l'altro giorno addirittura non esclude un ritorno nell'Inter chissà che non ci sia una sorpresa dietro l'angolo LGS proprio sull'argomento dice penso che possa fare solo il socio di minoranza con un incarico di una presidenza onoraria anche quello non sarebbe comunque male se è salita così di valore scrive Giusi l'Inter dovremmo sempre dire grazie a Zang Raffaele ci chiediamo il perché di tanta versione odio nei confronti dell'Inter che continua i tentativi di infangare i meriti e i successi raggiunti perfino la capacità di Marotta di ignorare tutti questi topi da scantinati di definisce Raffaele è stata messa a dura prova e per la prima volta ha parlato di invidia nei confronti dell'Inter Tobia del titolo Lautaro non fa non fa solo gol ma lavora per la squadra cosa che non è da tutti e poi come la ama il rientro di Moratti è utopia per Sandro Ceppa invece dice con Moratti presidente e Marotta dirigente avremmo vinto 5 Champions esagerato però sarebbe una bella accoppiata mi piacerebbe nei prossimi anni che Fiorentina o Torino vincessero qualcosa meglio se non contro l'Inter registriamo per me vendere Lautaro Gianluca dice quest'anno col mondiale per club alle porte con questo nuovo fondo vedremo ho fatto un giro su l'ex twitter ho chiuso il pc e sono andato a dormire con un solo pensiero questo mondo non è più lo stesso seriamente paura per i nostri figli e i nipoti scrive Alexander Strattel firmare la petizione se mio figlio dice Frank mi chiede la Ferrari gli spiego che posso permettermi una 500 se non se ne rende conto continuerà ad andare in bicicletta Lautaro non so se abbiamo se abbia compreso che non possiamo permetterci quanto chiede poi appunto Mattia è quel utente che è infastidito dal mio ricordo dal mio discorso sulla sulla petizione se lo trovi pesante o lo schippio cambicanale non c'è problema e non non mi faccio dire da nessuno quello che devo o non devo dire in questi anni abbiamo iniziato a conoscere Beppe tranquillizza tutti lo faceva anche per Scrinia ma lo faceva con condizioni di casa per le promesse ricevute e poi non è andata così ringrazio abbraccio 100% informatica Larita Anthony e tutti voi che siete sempre al nostro fianco vedo un po' di assenza della della nostra Paola e Tony speriamo che ritornino eccoci qua per un finale di titoli dei giornali la gazzetta sulla questione Lautaro l'Inter è pronta a fare un'offerta importante però serve anche un passo indietro del capitano nerazzurro normali dinamiche di mercato come ha detto Marotta Lautaro dimmi di sì ultima proposta del club arriva a 10 milioni compresi bonus palla al bomber che chiede 12 presto un nuovo vertice e vedremo come andrà Lautaro cosa fai ora l'Inter chiede al Toro una mossa OCTRI al lavoro il dossier stadio sempre più nel vivo anche sul Corriere dello Sport l'operazione di Acerbi e la situazione Lautaro così come anche su tutti gli altri quotidiani vi auguro una buona giornata appuntamento Sport Mediaset ore 13 e poi ci ritroviamo